Cominciamo la presentazione? Allora prendo io la parola come presidente dell'Istituto dei Beni Culturali che ha promosso, favorito, questa bellissima pubblicazione Si sente qualcosa? Sì, adesso sì, si vede era spento là Allora, dicevo che prendevo io la parola come presidente dell'Istituto dei Beni Culturali l'istituzione che all'interno dei cuoi lavori si è realizzata questa bellissima opera un'opera che prende l'occasione ovviamente da questa ridda di iniziative che riguardano gastronomia e quindi la connessione tra gastronomia e agricoltura però è un'opera che come vedete e vedrete se prenderete e guarderete il libro va ben al di là per la ricchezza dei dati che mette insieme sostanzialmente per spiegare che cos'è è un percorso fatto all'interno delle biblioteche e comunque degli istituti culturali della regione per individuare le opere che dal Medioevo in avanti hanno trattato i problemi del mondo agricolo e delle connessioni tra mondo agricolo e appunto la produzione poiché è andata nei secoli sulle nostre tavole di abitanti della regione e con grande cura l'autrice va alla ricerca di questi libri di questi testi e individua gli autori li presenta, li colloca nel loro tempo e poi fa delle presentazioni degli oggetti principali che vengono trattati con citazioni che riguardano appunto le cose che a lei sono sembrate più importanti in ciascun lavoro, in ciascuna opera e quindi viene fuori una sorta di antologia proprio un'antologia che scorre lungo i secoli e che ci dà una immagine molto ricca molto importante, significativa e originale dell'oggetto di cui si sta parlando la cosa che colpisce secondo me è che fin da subito in questo lavoro in questi elementi che vengono messi in evidenza dall'autrice subito si notano delle realtà, delle situazioni delle curiosità che restano poi vive nei secoli e che giungono fino a noi cioè i temi che vengono trattati in questo libro e nei libri che lei cita sono i temi dell'alimentazione e salute e medicina orti dei semplici cioè orti medicali e loro capacità di curare determinate malattie e c'è quindi nell'autrice questa capacità ma più che altro direi c'è negli autori che lei cita questa capacità di individuare temi che sono sempre vivi che sono sempre all'ordine del giorno sono i temi se noi guardiamo la prima opera citata è un'opera che sta tra 1200 e 1300 è Pier Crescenzi Pier Crescenzi che si occupa di vino il vino è uno degli aspetti più trattati ovviamente da tutti questi autori molto è molta è l'attenzione a come deve essere coltivato deve essere coltivata la vite e come deve essere poi trattata per diventare vino buono e qui in questo libro questo è il quarto libro del trattato di Pier Crescenzi che si chiama De Agricultura Vulgare che è un un trattato che vuole insegnare a coltivare al meglio le cose della natura e trattare al meglio i terreni per prepararli a produrre nel modo migliore e dice letteralmente che i vini vengono trattati con quella cura e quella attenzione che ora qualunque enologo definisce per presentarci un vino quindi il colore il profumo tutte quelle sfumature che noi ben conosciamo a volte anche eccessive però per esempio la citazione dell'Albana che viene fatta siamo nel tredicesimo secolo e il vino suo è molto potente e di nobile sapore ben serbevole e mezzanamente soctile e se un poco avaccio si faccia la sua vendemmia meglio si serba se si va avanti nella sua vendemmia si serba il vino suo ed è un'altra maniera che è albinazza che è bianca non lucente ma di macchie piene meravigliosamente dolce ed è ritonda e il vino fa dolcissimo e massimamente dice che viene coltivata a Borgo Panigale dove ci sono dei vigneti che producono un'Albana straordinaria secondo Pia Crescenza come vedete un'attenzione a un tipo di presentazione del prodotto enologico che non si discosta poi al di là dell'uso ovviamente del volgare di allora non si discosta da come adesso l'enologia ci presenta queste e se noi guardiamo questi trattati vediamo che il vino è sempre oggetto di un'attenzione particolare in questo trattato del 1500 invece un signore che si chiamava Giuseppe Falcone che ovviamente non conoscevo e che è di Piacenza fa dei pronostici legati a come imbottigliare il vino nel momento offerto dalla natura che sia il migliore e allora ci sono tutti i proverbi che poi si sono mantenuti in parte nel corso dei secoli luna pallida mostra pioggia rossa venti ma bianca serena e dice anche il comportamento degli animali da questo comportamento si possono trarre degli auspici e segno di pioggia ancora quando gli uccelli acquatici guizzano per le acque quando le rondini volando sopra l'acqua la battono colpette con l'ale quando le mosche zenzale tafani e pulci pungono più del solito questo lo diciamo anche noi quindi e qui siamo poi è lungo eccetera ma insomma per dirvi il tipo delle il tipo di attenzione ad una necessità di conoscere al meglio la natura per poter dalla natura trarre nel modo migliore il sostentamento il vino nel caso specifico ma ovviamente anche gli altri prodotti c'è poi un richiamo addirittura c'è un riquadro specifico dedicato ad un piccolo saggetto molto noto che fa parte dei famosi volumi di Tanara i sette libri del Tanara siamo nel 1600 che è il testamento del porco laddove viene messo in luce come qualunque parte dell'animale è utile all'uomo e quindi il porco dice io me ne vado ma lascio allora prima lascio che il mio corpo sia di una caterva di golosi con varie cuociture nel loro ventre seppellito lascio apri apri il mio grugno col quale possa cavare i tartuffi dal suo orto lascio i librai e cartare i miei maggiori denti da poter con comodità piegare pulire le carti e così via un uso delle parti del maiale che allora era totale davvero anche adesso il famoso proverbio ci mette in evidenza questo ma allora in un'epoca in cui ovviamente non c'erano tutti i prodotti che ci sono adesso fatti o con la chimica o con la plastica questo uso di tutte veramente tutte le parti del corpo del maiale è messo in evidenza questo libro che è molto famoso che si chiama l'economia del cittadino in villa che si divide in sette tomi e che prende in esame proprio a testimonianza di quello che vi sto dicendo il modo migliore per fare il pane il vino le viti l'attenzione alle api come allevare gli animali da cortile come allevare le piante come coltivare le piante dell'orto e il giardino e poi naturalmente parla delle fasi lunari parla della della situazione atmosferica e così via quindi quello che si evince da questa lettura e da questa antologia è proprio questa continuità questa continuità che nei secoli gli uomini e gli uomini soprattutto della nostra terra non hanno mai perso che è un'attenzione particolare a come utilizzare al meglio il rapporto fra l'uomo e la terra e poi portare questi prodotti dentro sulle tavole e quindi nutrire nel modo migliore di una terra che è la terra emiliana che non è di per sé una terra ferace una terra di per sé fertile certo c'è l'acqua ci sono opportunità che altri territori non hanno ma c'è anche un clima che non è proprio il migliore del mondo e quindi bisogna avere molta cura molta attenzione ed essere molto esperti avere una grande capacità di cogliere tutti gli elementi che possono favorire il miglioramento di questa attività e tutti questi libri citati questa antologia di libri vanno in questa direzione ci sono nomi importanti c'è il nome di Filippo Re grande agronomo sono nomi che noi tutti conosciamo anche perché sono segnalati da strade cittadine Filippo Re fu un funzionario indignitario del periodo napoleonico grande agronomo Carlo Berti Pichà Carlo Berti Pichà che fa addirittura un manuale per insegnare appunto le coltivazioni e queste cose e Carlo Berti Pichà è un nome importante nella storia del risorgimento bolognese poi ci sono momenti in cui si prende in considerazione un altro aspetto fino adesso vi ho citato solo libri che introducono modi per trattare al meglio la terra le piante gli animali ma ci sono poi i libri che riguardano la salubrità delle persone come qui vengono definiti libri di sanità come appunto i prodotti della terra degli orti dei semplici e comunque i prodotti della coltivazione dell'uomo servono per aiutare l'uomo a superare le malattie e quindi vengono presentate ricette le più varie anche a volte curiose che riguardano un po' tutti gli aspetti di tutte le malattie praticamente ci sono i libri dei segreti di Caterina Sforza Caterina Sforza è un personaggio rilevante nella storia della regione fu contessa di Imola e di Forlì difese estrenuamente dagli assedi la sua la rocca di Forlì e di Forlì in popoli fu moglie di Girolla Moriario e madre di Giovanna delle Bande Nere quindi è un personaggio rilevante nella storia del nostro paese e della nostra regione si occupò anche di questi tacquini di sanità come vengono definiti e naturalmente siccome ero una donna che ci teneva a essere bella molte di queste ricette riguardano la cura cosmetica del corpo del viso della pelle qui dice l'autrice Caterina seppe trovare qualcosa che la rese molto famosa l'acqua celeste che come scrive lei stessa è di tanta virtù che i vecchi fa divenire giovani e se fosse in età di 85 anni lo farà divenire dall'apparenza di anni 35 sarebbe bello per tutti noi fa de morto vivo cioè se all'infermo morente metti in bocca un gozo di dictacqua purché lo inghiottisca perché se sta morendo e non riesce a inghiottirlo muore se invece riesce a inghiottirlo nello spazio di tre paternosti ripillerà fortezza e con l'aiuto di Dio guarirà se c'è l'aiuto di Dio probabilmente no qui c'è una ricetta di Leonardo Fioravanti altro nome di bolognese che mette in modo mette in un elenco lunghissimo di erbe per fare dei brodetti utili ai malati c'è una ricetta per fare dice un cibo di grandissimo rinfrescamento e nutrimento leggo questo poi la smetto perché altrimenti qui ce n'è da fare fino a stanotte si pigliano se volete segnare potete farlo otto bianchi di uova fresche once e quattro di latte ed once e quattro di latte di mandorle dolci ed once e sei di zucchero con un pochetto di acqua di rosa finissima e si rimena tanto dentro un mortaro che tutte le sopradette cose si incorporano insieme e diventano in forma di liquido un guento e sarà fatto e questa è una composizione la quale dà grandissimo nutrimento agli ammalati e li rinfresca e gli estingue la sete e tal composizione si dovrebbe usare da tutti quando sono ammalati e massimi di febbre calide che inducono grandissima siccità quando si ha molta sete del modo di fare il pesto per quei che sono feriti del modo di condire molte sorti di cibi per gli ammalati e così via quindi tantissime ricette con tutti questi prodotti che dovrebbero curare addirittura con effetti miracolosi perché si passa dalla capacità di far passare far diventare un uomo o una donna di 85 anni un 35enne e addirittura di impedire a un moribondo di morire questa acqua celeste di Caterina Sforza la vorremmo avere tutti e prosegue il volume e ci si può immergere in queste curiosità in questi divertimenti in queste situazioni dove per esempio si parla anche delle acque curative vengono presentate le termine di porretta che nel settecento erano già piuttosto note e qui c'è il riferimento alla leggenda secondo le quali queste fonti porrettane sarebbero state scoperte in epoca medievale a causa di un bue malato che bevendo casualmente l'acqua ancora sconosciuta avrebbe riacquistato la salute e come vedete ci sono le cose più curiose ma anche le cose più serie le cose che appunto ci fanno dire come l'attenzione dell'umanità a questi valori prodotti dal rapporto con i campi siano molto forti poi ci sono i trattati dedicati nel volume i trattati dedicati ai vari prodotti cioè autori che prendono in considerazione uno specifico prodotto non più discorsi generali come quelli che abbiamo citato fino adesso e che parlano quindi dei fichi dell'anice del grano del gran turco del riso dei castagni dei pinoli dei funghi molti sulle patate molti naturalmente sul vino sulle api sul miele molti sul formaggio poi si arriva alla cioccolata ecco vorrei solo fare un riferimento a questo che è abbastanza che è il liquore della bouton allora la bouton produceva un liquore che era sicuramente buono perché era fatto con le foglie di coca si chiamava infatti coca bouton allora è chiaro che aveva degli effetti molto rigeneranti questo e quindi c'è qui riprodotto una bellissima etichetta con tutti i fregi le decorazioni tipiche di allora di fine ottocento primi del novecento la coca bouton appunto così si chiamava ma perché usava appunto le foglie di coca probabilmente erano trattati in modo che non produceva effetti allucinogeni ma io non lo so questo certamente e l'autrice lo mette in evidenza erano usate foglie di coca boliviane dice con un procedimento che eliminava completamente le tossine pericolose della pianta pericolose non so in quale senso dice l'accoglienza del mercato fu entusiasmante poiché il prodotto sembra possedere nettevoli proprietà corroboranti forse in piazza verdi era diffusissima già allora la coca bouton ecco non voglio proseguire ormai ho preso anche troppo tempo potrei andare avanti perché appunto poi ci sono le opere narrative che vengono trattate con uguale attenzione da parte dell'autrice quindi c'è tutto ciò ripeto come ho detto all'inizio tutto ciò che riguarda questo rapporto così stretto così mai interrotto nonostante le apparenze degli ultimi decenni adesso non è più forse così mai interrotto tra l'uomo che via via si modernizzava inventava nuove cose inventava nuovi rapporti economici e sociali ma che comunque doveva partire dalla capacità di far fruttare al meglio la terra e in particolare nella nostra regione che non ha mai cessato in nessun momento neanche nel momento di passaggio di famoso negli anni 50 dall'Italia agricola dall'Italia contadina all'Italia industriale e urbanizzata tenete conto che la percentuale di lavoratori agricoli della nostra regione e in particolare proprio della provincia di Bologna ma qui l'amico Giorgio ne sa certamente più di me la percentuale dei lavoratori agricoli era comunque più elevata della percentuale dei lavoratori agricoli di città paragonabili a Bologna come Firenze e come altre quindi mai nella nostra regione tutto sommato anche nei momenti che sembrava addirittura il mondo contadino fuori dalla cultura moderna mai ha cessato invece di avere questo rapporto fecondo e qui mi fermo e vi consiglio di dare un'occhiata approfondita a questo volume grazie adesso naturalmente la parola grazie presidente dell'Accademia dell'Ericoltura grazie caro amico Giorgio Cantelli fuori buonasera a tutti mi complimento innanzitutto con la dottoressa Zita Sanardi per questo volume mi complimento proprio a nome dell'Accademia Nazionale di Agricoltura questo volume è un volume che abbiamo apprezzato e apprezzeremo sempre di più penso che qualche delle copie gireranno nell'ambito dell'Accademia verrà posto nel nostro storico nella nostra storica biblioteca direi che la grittitudine va anche l'Istituto per i beni artistici culturali e naturali della regione Emilia-Romagna perché questo strumento è uno strumento di lavoro cioè questa raccolta di diciamo antichi manoscritti di antichi saperi di antiche scoperte proposte ricette come ben sentito dal professor Varne anche non solo per la cucina dove lì qualche critica la farò ma soprattutto per la salute e sono tutte ricerche che l'uomo ha fatto nei secoli dal XIII secolo per i crescenti e i centi a cavallo fra 1200 e 1300 fino ad arrivare appunto al XIX secolo questa raccolta è stata fatta con grande attenzione grande cura mettendo assieme tutta una serie di argomenti che sono stati come dice nelle introduzioni l'autore suddivisi in sette capitoli questi sette capitoli danno uno spaccato importante che perché come Accademia siamo grati perché noi dobbiamo conservare e trasferire quelli che sono i veri valori dell'agricoltura e della importanza che ha questo settore oggi che diciamo non solo agricoltura ma filiera agroalimentare e infatti non a caso il libro si chiama agricoltura e alimentazione in Emilia Romagna da il nostro spaccato però le regole sono regole di tutte le comunità l'antologia di antichi testi non è un'antologia di antichi testi è sicuramente e neanche una collezione è stato un abbinamento attraverso un percorso nella storia come vi dicevo di quello che è l'importanza dell'agricoltura e della tradizione alimentare alimentare con in relazione a abbiamo detto i saperi ma anche le tecnologie dei tempi per cui secondo le tecnologie dei tempi voi pensate quando era di moda la cucina a un certo punto mi dicea dove ovviamente si cercavano avendo trovato mi pare un antico manoscritto avevano cominciato alcuni cuochi a riprodurre le ricette ricette quasi immangiabili perché per poter mantenere da un punto di vista igienico sanitario un controllo dei batteri erano ricche di sali di spezie e di quant'altro perché non c'era tecnologia del freddo allora oggi pensando che non esiste ovviamente neanche non dico una casa neanche un ufficio che non ci sia meno frigo da ottenere il sandwich di mezzogiorno al fresco questo vuol dire che le tecnologie nel tempo hanno potuto dare e accompagnare però saperi che attraverso 6-700 anni di storie sono rimasti quelli che cos'è che è cambiato è cambiato certamente una cosa che va e il libro ci aiuta a rivalutare se l'agricoltura una volta e l'alimentazione erano la centralità di una società da un punto di vista non solo ovviamente di sopravvivenza se parliamo nel 300 parlavamo di 7-800 milioni di persone forse meno in tutto il globo oggi parliamo di 7 miliardi e 2 si proietta a 20 miliardi nel 2020 e 2025 allora il problema qual è? il problema è che comunque allora l'agricoltura pur essendo i numeri più limitati e quindi da un punto di vista esponenziale è diventato più determinante oggi di ieri però una volta l'agricoltura era anche il supporto economico di una società era fondamentale perché era il lavoro principale la cultura della terra gli argomenti di sistemazione dei terreni lo stesso Pier Crescenzi parla non solo di vino che l'amico Avarni è rimasto fortemente colpito il vino è una cultura oggi che dà dei grandi ristori al nostro bilancio commerciale siamo i primi nel mondo abbiamo superato i francesi quindi vuol dire che è una cultura importante però per Crescenzi parla anche dei luoghi dei posti dei terreni come a un certo punto deve essere impostato un corretto piano agronomico e anche per l'epoca e anche un asseveramento dei terreni una sistemazione dei terreni quindi vuol dire che al di là del prodotto finale c'è tutta una serie di culture di esperienze e di diciamo e di trasferimento di quelle che sono le regole del buon governo della terra allora se questo è passato attraverso 600 anni e l'agricoltura è anche una fonte ripeto economica importante è una fonte economica anche per la società perché le gabelle come parla il libro e ne parla di molte venivano messe su tutto venivano messe le gabelle e altro che l'imo agricola ne mettevano di gabelle già allora quindi i potenti le varie i vari responsabili delle società dell'epoca in Emilia Romagna quindi non solo il papatto ma certamente anche governi laici oppure locali approfittavano quindi dell'agricoltura per le loro gabelle quindi era una fonte economica importante noi siamo stati distratti nel secolo scorso nella seconda parte del secolo scorso dall'esplosione del mondo ovviamente industriale e di tutte le tecnologie moderne per cui l'agricoltura è passata in secondo piano è stata un po' dimenticata basta pensare che negli anni 60 il figlio che andava a lavorare in fabbrica era un figlio intelligente chi diventava magari ragioniere era bravissimo se si lavorava era stupendo se andava a fare l'agricoltore in un succone si diceva a Bologna un succone cioè chi andava in agricoltura erano gli ultimi in realtà oggi si è scoperto che l'agricoltura e lo vede anche le attuali dati di affluenza alla facoltà agraria di Bologna ma non solo di Bologna il fatto che oggi l'agricoltura c'è un grande ritorno perché si è preso coscienza del fatto che l'agricoltura è come molte parti del libro cita l'agricoltura è quella che può e deve dare nutrimento se a un certo punto così qualche dato voi pensate che la superficie terrestre è circa 540 milioni 540 milioni di metri scusate di chilometri quadrati quella emersa dalle acque è attorno 147 148 milioni di chilometri quadrati di questi coltivati sono solo solo 13 milioni di chilometri quadrati cioè il 9,7 9,8% delle superfici emerse ora vuol dire che se nel secolo scorso avevamo superato il miliardo cioè l'inizio del secolo scorso poco di più il miliardo di abitanti oggi noi abbiamo sulla terra appunto 7 miliardi 2 e voi pensate che di quel 13,8% cioè di quel diciamo prossimativamente 14 milioni di chilometri quadrati coltivati il 20% produce l'80% delle derrate alimentari che possiamo disporre l'80% ne produce solo il 20% allora vuol dire che la tecnologia ha fatto da parte di Leone dove per esempio già nel 300 come oggi la pianura padana è la più avanzata da un punto di vista agricolo e agronomico lo vediamo negli antichi scritti relativamente all'epoca lo vediamo dai dati statistici di oggi cosa importante le ha sicuramente fatto tutti i personaggi che sono citati qua Angelo mi ha portato via alcune alcune cose che volevo toccare alcuni nomi ma basta pensare Filippo Re Filippo Re che è stato il primo preside di una facoltà d'agraria istituito da Napoleone con edito napoleonico ma è stato anche il primo presidente della società agricola vero dalla destra del Reno che è quella che poi ha dato origine oggi all'Accademia Nazionale dell'agricoltura noi siamo nati nel 1807 con Filippo Re lui finì poi a Modena Reggiano è venuto a Bologna poi è nato a Modena eccetera ma Filippo Re certamente è stato un personaggio importante a quell'epoca perché ha tracciato appunto l'impostazione delle moderne scienze agronomiche quelle che i nostri colleghi della facoltà d'agraria stanno portando avanti e che a fronte di un abbandono culturale da parte della società moderna che vuole vivere di logo e di griff oggi noi abbiamo ancora sempre di più necessità di queste conoscenze di queste tecniche di questi modi di operare ed è quello che poi è l'obiettivo del libro ma certamente di uno strumento importante che è l'obiettivo anche della nostra Accademia allora se noi pensiamo che parlare dell'Expo che finirà fra poco abbiamo qui Maurizio Campiverdi che è il grande esperto con la cucina italiana con l'Accademia della Cucina italiana di queste cose ne parlavamo l'altro giorno poi ci sono anche altri amici dell'Accademia della Cucina quindi persone che sono comunque rivolte alla seconda parte dell'intestazione alimentare l'alimentazione ora non dell'aspetto edonistico ma dell'aspetto necessario per poter non solo potersi nutrire per avere l'energia ma potersi nutrire per avere sempre un corpo sano in una mente sana cioè in un cervello sano certamente qui nel libro troviamo le antiche recette ci sono i primi volumi le prime fabbriche di mortadella bolognese fino a quella di Nanni famosissima prima è stata che mi pare che sia stata sala bolognese Sarti mi pare ecco questi sono i primi esempi di mortadella cosa buonissima non da rifiutare l'altra sera dicevo è meglio mangiare un pasto ipocalorico da McDonald che una dieta bolognese ipercalorica cioè quello che significa cosa mangi quanto mangi e la regolarità delle assunzioni di quegli alimenti che sono stati individuati anche in questo libro basta pensare alla fotografia di Ulisse il Drovandi dove c'è il peperoncino e quindi la psycina cioè tutte sostanze che sappiamo di origine naturale ma che funzionano assunti a piccole dose come farmaci la cosiddetta nutraceutica su cui noi stiamo parlando come accademia ampiamente se noi andiamo a vedere proprio adesso non saprei dove fermarmi perché ho messo se voi vedete ma non vi tengo fino a mezzanotte 200 punti perché effettivamente mi è piaciuto mi è curiosito ripeto è uno strumento di lavoro e allora se andiamo a vedere questo vediamo che è stato parlato anche si parla anche di Aldrovandi Ulisse Aldrovandi chi è Ulisse Aldrovandi tutti lo sappiamo io mi ricordo professore presidente merito dell'Università del Texas mi chiami ero là giovane ricercatore sto parlando da farmacologo che legge cose agricole non da uomo di scienza cultura delle scienze diciamo del sapere letterarie che lo vede da un altro punto di vista io lo vedo da un punto di vista un po' emozionale vedendo in questi tanti riscontri anche della mia vita questo Truman Blocker mi chiama e dice tu vieni da Bologna sì il Big Cheese presidente merito dell'Università del Texas 14 facoltà e mi dice tu vieni da Bologna dice dottor Cantelli sai chi è Ulisse Aldrovandi la mia mente davanti a questo personaggio importante un uomo e grande comincia a frullare e mi ricordo ma una piazza io questa piazza c'è sì che era forse un medico ma 500 600 300 non riuscivo a quadrare mi ha fatto siamo venuti in Italia insieme siamo andati dentro all'allora biblioteca universitaria che però era non dell'università ma era del patrimonio del ministero quindi mi pare che allora la direttrice fosse la dottoressa Cidini quella che poi è andata a Firenze credo comunque fu gentilissima e ci fece vedere i 383 volumi eravamo nel 77 c'erano gli autoblindo via Zamboni e mi fece vedere i 383 volumi tutte le parti le tavolette le cose insomma passammo una giornata con questo uomo entusiasta che diceva ma ne avete tanti me ne date uno vi sistemo tutto il palazzo io vi do i soldi dal buon texano per sistemare tutto e me ne ha dato ma non è possibile roba dello Stato ma ne avete tanti cioè per capire come questi valori che sono legati a un protomedico un uomo che è destinato a pensare alla salute all'infettivologia e a tutti i problemi dell'epoca un uomo che cosa ha fatto ha creato nel palazzo attuale del comune all'interno del 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 pozzo dove oggi parcheggia le macchine fece il primo orto botanico seguendo l'esperienza di Luca Ghini che Luca Ghini fu il primo in assoluto che lo fece prima a mi pare a Pisa e poi andò a Pavia e lui riuscì a passare questa creare questo posto dove certamente era l'orto dei semplici quindi bisognava cercare i semplici cioè i principi attivi che potevano curare la salute oggi questi concetti sono rivisitati io come dice Ippocrate mangio per curarmi e mi curo nutrendo per cui a un certo punto prendendo tutti questi queste piante che molte volte si era inventato non dico si era inventato ma non le aveva viste perché al Drovandi credo che non sia andato una volta in Svizzera in Francia il resto da oltreoceano glielo dicevano i frati i pellegrini li portavano poi se non trovava una cosa la inventava basta pensare alla chimera c'è lo pesce che l'ha fatto fare un imbalsamatore la pietra è filosofale però questo uomo geniale aveva a un certo punto capito il valore delle culture e degli alimenti di origine vegetale allora leggiamoli di traverso con quello che a un certo punto la dottoressa Zanardi ci ha fatto in questo libro vedo qui per esempio il capitolo dove ci sono tutta una serie di aspetti dovuti all'eliminazione di liquidi Leonardo Fioravanti e allora io ti posso dire una cosa l'hai già citato a te però io leggendo questo libro mi sono reso conto perché ci esistono certe strade perché tanti nomi non li conoscevo quindi ha anche un grande valore toponomastico perché mi dà l'idea di capire perché certe strade sono state intitolate voglio dire non sono quelle strade strane ieri sono andate in una strada che si chiama via del concordato pensavo della chiesa internazionale europeo non so che cosa dal 1900 questi sono nomi precisi Ambrosini è Ambrosini però uno può sapere chi è Aldrovandi non sapere chi è Ambrosini mentre Ambrosini è un altro personaggio importante che parla di cose di salute allora se andiamo a vedere trasversalmente vuol dire che non c'è solo l'organizzazione economica dell'agricoltura come fonte di reddito e fonte di lavoro e fonte di sopravvivenza di una società emiliana romagnola particolarmente avanzata pensate Pellegrini Ortusi trasformazione in alimenti e parla di Ortusi cioè tutte queste cose fanno vedere una civiltà che è rimasta in tutti questi secoli avanzata e attraverso queste cose ha già individuato quello che sono nella storia della medicina dell'uomo e le sostanze salutistiche ahimè breve parentesi talvolta le cucina troppo grasse le troppo cioè la trasformazione era legata alla tecnologia dell'epoca e che non sempre il prodotto finale è un prodotto che ti può dare salute se continui a alimentarti in questo modo oggi con le trasformazioni e le industrie agrarie e le trasformazioni agroindustriali invece abbiamo dei prodotti che sono quelli le materie prime che sono quelle ma i prodotti finali sono molto più salutari e allora ecco che la vita media si è allungata perché certamente sulla salute dell'uomo gli alimenti pesano il 39% 38% il fumo e cancro peso il 30% quindi il rischio di malattia da alimentazione è maggiore del rischio di malattia da fumo dol e pito sono due epidemiologi inglesi che hanno fatto un ottimo lavoro su questo senso allora se vediamo questo vuol dire che i principi attivi negli alimenti devono essere ben presenti in chi cucina mi rivolgo agli accademici della cucina chi cucina deve sapere cosa c'è dentro deve fare un master deve fare una scuola un cuoco non può solo buttarsi alla sapidità al sapore all'occhio oggi abbiamo dei piatti talvolta non di grande sapore ma di una così di un'arte di un'arte colorata incredibile devo sapere cosa danno dentro sapere che ci sono queste sostanze e vanno bene oggi l'interdisciplinarità e qui si vede l'interdisciplinarità delle conoscenze ha fatto sì che la cultura e parlo della seconda parte cioè dell'alimentazione è fondamentale per la salute dell'uomo e per la sua sopravvivenza e allora tornando all'inizio avanti protomedico bene vi lascio la curiosità di andare a vedere in molti di questi autori citati sono medici sono botanici sono biologi sono cioè non solo solo agronomi allora vuol dire che l'apertura che anche l'accademia sta facendo a tanti saperi che concorrono all'agricoltura quindi tante professionalità che concorrono all'agricoltura ma che concorrono soprattutto all'alimentazione e all'alimentazione sana questo è l'obiettivo che è di oggi di domani ma che si evince già nella storia passata e quindi non è un'invenzione non è una scoperta che l'accademia ha fatto ma è e questo mi ha fatto piacere perché pensavamo di essere un po' anomali con quest'idea che posiamo all'accademia nazionale di agricoltura che fossero solo persone dette all'agricoltura abbiamo cominciato ad aprire un po' tante altre cose e mi accorgo che dal 1300 si faceva così e quindi voglio dire abbiamo una base molto importante come supporto allora chiudo volendo dire che il momento importante io cerco di ragionare sul fatto di l'agricoltura che deve tornare centrale anche nel nostro paese in certi stati più avanzati guardate gli Stati Uniti per esempio è già tornata nel suo ruolo importante e le riserve agroalimentari sono riserve che il governo pretende ogni anno noi se domani chiudiamo le frontiere abbiamo grano per fare pane forse per 15 giorni allora attenzione viviamo troppo di dipendenza dall'estero perché le logiche commerciali mercantili e industriali pure non agroindustriali dicono troviamo nel mondo come se tutto fosse tranquillo noi non abbiamo più una sicurezza di avere la quantità se tutto si ferma allora per chiudere il testo inizia parlando dell'Expo 2015 l'Expo 2015 cosa dice nutrire il pianeta nutrire il pianeta cosa vuol dire vogliono dire tante cose dobbiamo nutrire tutti purtroppo ci sappiamo che c'è un miliardo e cinque miliardo e sei di persone sottonutrite forse quattro cinquecento milioni sono persone al limite della sopravvivenza quindi è un fatto etico caritatevole umanitario mettetelo come volete però non possiamo pensare che il nutrire il pianeta significhi questo perché domani quando è chiuso l'Expo cosa dimentichiamo tutto dobbiamo avere una lezione di questo allora dobbiamo pensare sì che ci possono essere modi di nutrire e che tutti siano garantiti nella loro alimentazione ma dobbiamo anche pensare che ci sono diverse civiltà più o meno avanzate e quelli avanzati devono aiutare gli altri ma per aiutare devono sopravvivere nelle loro condizioni e noi dobbiamo dire nutrire io metterai meglio il pianeta nutrire più sano il pianeta e nutrire in modo più salutistico il pianeta questi sono gli obiettivi che le moderne scienze interdisciplinari di cui dicevo prima si stanno orientando però con grande piacere e con grande lode alla dottoressa Zanatti tutto questo se me lo ha fatto emergere già nei nostri antenati grazie bene del resto sei l'erede di Filippo Re quindi è logico che ci sia questo interdisciplinarietà che hai messo bene giustamente in evidenza dottoressa Zanardi è stata citata ovviamente molte volte giustamente lodata per il suo lavoro vuole dire due parole vuole perché ha fatto volume ha voluto fare questo volume sì ve lo chiedo io venga qua perché così non ha fatto non so industria e il packaging in Emilia Romagna posso spostare una sorta per questo certo certo ok ok permettetemi una brevissima premessa che ritengo doverosa devo assolutamente ringraziare tutti i colleghi dell'istituto e delle biblioteche coinvolte a cominciare da questa bellissima che ci ospita oggi per la loro collaborazione perché senza il loro aiuto probabilmente oggi sarei ancora qui a pensare cosa cappero devo fare per quanto riguarda il perché ho fatto questo dunque questa pubblicazione è nata su richiesta dei responsabili dell'istituto per cui lavoro che mi hanno proposto di provare a realizzare una pubblicazione che si potesse collegare in qualche modo a questo evento ma non solo a questo però l'expo di quest'anno era un'occasione abbastanza importante e perché non approfittarne non ho parlato di packaging e di industria perché io da quasi 30 anni lavoro con i libri antichi e lì tirare fuori packaging e industria non mi sarebbe stato facilissimo e però conoscendoli da tanto tempo sapevo che avevano la possibilità di offrire del materiale piuttosto ricco sono stata presa sul momento da un attimo di panico all'inizio del lavoro perché io appunto lavoro con i libri antichi che in genere catalogo e studio per valorizzarli nelle biblioteche e così via questo è il mio lavoro però di storia dell'alimentazione di storia dell'agricoltura non so assolutamente niente e quindi sinceramente nel primo momento mi è stato difficile riuscire a capire da dove potevo cominciare ho cominciato dai due o tre autori che per forza di cose conoscevo come Pier Crescenzi tanto per restare in pena e devo dire che pian piano il volume si è fatto da solo nel senso che ogni autore mi ha rimandato ad altri collegati a lui alle sue opere alle loro opere e così in una sorta di catena che 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 alla fine ha dato come risultato questo volume quindi io sinceramente se devo dire ne ho colto la logica ma perché gli autori me l'hanno fatta cogliere e l'altro l'altro fattore è che non sapendo niente di questi argomenti ho deciso che l'unica soluzione possibile era quella di lasciar parlare loro per questo chi leggerà il libro vedrà quante sono le citazioni che ho fatto è una cosa voluta nel senso che non non sapendo io gli argomenti di cui si doveva trattare ho lasciato che parlassero loro e questo mi ha dato la possibilità anche di capire un'altra cosa che frequentando i libri antichi avevo già maturato in altri settori che è banalissima probabilmente però la dico lo stesso che forse riusciremo a costruire un presente e soprattutto un futuro migliore se partiremo dal nostro passato conoscendo il nostro passato basta bene grazie non abbiamo detto una cosa importante viceversa chi avrà per le mani il libro lo noterà subito il libro è graficamente tipograficamente molto bello con un corredo straordinario di illustrazioni ci sono incisioni disegni riproduzione di manoscritti insomma già solo questo questo scorrere di pagine attraverso non solo lo scritto con le tante citazioni giustamente messe dall'autrice ma con tutto questo corredo splendido di illustrazioni che arricchiscono che sono illustrazioni non messe lì tanto per far bello il libro che lo fanno anche bello ma che sono direttamente connesse a quello che viene detto e sono spesso capaci di spiegare al meglio quello che viene scritto e detto nel volume ci sono delle domande da fare a noi o all'autrice non è obbligatorio io penso che Maurizio Campiverdi voglia far subito una domanda no ma se non però intanto ne faccio una io scusa ancora perché ha messo i lunari gli almanacchi perché è un aspetto molto importante ce l'hai accolto io vendo un'origine agricola il fatto di parte del barba nera eccetera sapere se domani piove o non piove ma il lunario era il modo di anticipare vero quello che erroneamente ogni giorno le previsioni del tempo ci fa il sistema di computer perché ci prende a mezz'ora o un'ora il giorno prima dice che piove o non piove e quindi l'agricoltore è sempre in naso per aria veramente in un insieme di questo genere è l'aspetto più curioso mi sono chiesto come mai perché anche io sono contadina e so quanti erano importanti i lunari per gli agricoltori il patrimonio di questo tipo di questo di questo tipo di documentazione nelle nostre biblioteche è infinito lunari almanacchi pronostici sono mare magnum ho cercato di scegliere proprio quelli siccome molti trattano di vari argomenti ho cercato di citare sempre a livello di antologia quindi di scelta quelli che davano privilegiavano proprio l'aspetto di previsione del tempo perché era la fonte di informazione primaria certo bene se non ci sono domande se ci sono ben volettieri se no non vogliamo forzare nessuno o hanno operato in emilia romagna no no ci sono delle special guest se mi permette nel senso che sono prevalentemente emiliano romagnoli o che comunque anche nati fuori dal territorio sono in qualche momento particolare particolarmente significativo della loro vita hanno lavorato in regione come Bartolomeo Scappi come Bartolomeo Scappi questi grandi cuochi c'è anche Olindo Guerini diventava difficile anche escluderli totalmente il discorso voleva essere di regionale semplicemente perché come funzionario dell'istituto per i beni culturali della regione emilia romagna diventava una cosa caratterizzante altrimenti sarebbe diventata forse ancora di più una delle tante cose su questo argomento che si che si possono trovare ma diventava anche difficile fare l'isola senza contatti con il resto del mondo e quindi altri autori possono essere citati come dico forse da qualche parte non ricordo più se il loro lavoro è stato in qualche modo determinante per i nostri autori si si poi hanno lavorato anche in emilia romagna si infatti bene guarda c'era anche questo scusami forse vuol dire un'altra cosa no fai fai dimmi pure in quanto studioso di arboricoltura ho visto che alla partenza c'è Pier De Crescenzi e Tanar Filippo Re quindi un po' i nostri come li ha chiamati i cantelli forti i nostri antenati ecco io leggendo le loro opere non si può oggi usare il metro della conoscenza attuale per valutare quella di allora ma ci sono tali e tante come posso dire cose anche ingiustificabili nel senso che questi autori partiamo dal primo al quale sono stati dedicate tre giornate qui di di studio e anche alla pubblicazione da parte dell'accademia di volumi ma se si va a vedere in Pier De Crescenzi molto meno in Tanar e Filippo Re ci sono delle tali castronerie prese da persino lui parte da Aristotele quello che le quattro azioni del mondo tutte cose sedimentate nei secoli che allora saltava fuori uno come lui capace di scrivere copiava di sana pianta dai greci o dai romani dagli autori e poi sono andate avanti queste castronerie fino alla fine dell'ottocento se vuole gliele posso documentare per cui sono anche faccio fatica a comprendere come mai anche la critica a queste cose non le consideri perché loro anche lo stesso Aldrovandi copiavano quello che trovavano tanto più che avevano degli eserciti di collaboratori che disegnavano eccetera quindi se c'è una cosa che noi avremmo il dovere di far presente è che bisogna studiare per capire anche gli errori che facevano quelli che lei ha detto è necessario conoscere per poter interpretare meglio il futuro però bisogna avere il coraggio di dirle queste cose senza altro bene io vorrei in chiusura sono già le 18 e 30 i ritmi circadiani si fanno sentire Bartolomeo Stefani l'arte del ben cucinare e distruire i meno periti in questa lodevole professione due punti dove anche si insegna a fare pasticci sapori salse gelatine torte ed altro questo è un capitolo importantissimo perché fa capire che puoi dare la materia prima buona finché vuoi ma come devi trasformarla è fondamentale per cui signori accademici bisogna cercare di fare anche qui del proselitismo e della cultura cioè dire non solo impressioniamo l'avventore ma effettivamente gli diamo quello che deve essere dato sapore e salute bene grazie signori grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti